Poste italiane dal 3 gennaio pagamento pensioni anche in provincia di Catanzaro. Poste italiane comunica che le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da martedì 3 in tutti gli uffici postali. In continuità con quanto fatto finora con l'obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura della sede di riferimento. Pertanto i cognomi dalla A alla C martedì 3 gennaio, dalla D alla K mercoledì 4 gennaio, dalla L alla P giovedì 5 gennaio, dalla Q alla Z sabato 7 gennaio. Solo la mattina. Le pensioni di gennaio saranno disponibili a partire da martedì 3 gennaio anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto banco posta o di una post pay evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di carta di debito associati ai conti libretti o di post pay evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 105 ATM postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di carta di debito associati o conti libretti potranno soffruire gratuitamente di una polizza assicurativa, che consente un risarcimento fino a 700 euro all'anno sui furti di contanti subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato, sia dagli sportelli postali, sia dagli ATM postamat. Grazie. Grazie.